Si chiama Grow Up ed è la esercitazione che il secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha organizzato questa mattina allo Scalo Pontieri sulle rive del Po per illustrare le loro attività e per sensibilizzare i giovani sugli altissimi pericoli che si corrono nel ritrovamento di ordini inesplosi sia bellici che artigianali. Grow Up significa crescere, crescere, ma per crescere bisogna conoscere, proprio questo lo scopo, far conoscere oggi quali sono ancora i potenziali rischi dovuti a quegli ordini inesplosi, ordini risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale. Una giornata orientata anche e soprattutto ai giovani? Assolutamente sì, abbiamo coinvolto vari istituti superiori della città di Piacenza, non solo, era presente anche la scuola militare Teuglie di Milano appunto perché il messaggio è rivolto ai giovani, ma chiaramente non solo ai giovani, perché molto spesso questi ordini vengono trovati sui campi o quando si svolgono lavori di edilizia. Quindi abbiamo detto cosa fare, abbiamo dato indicazione su cosa fare, non vanno assolutamente toccati questi ordini e vanno informate le forze dell'ordine. L'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra, assieme al MIUR, ha realizzato una campagna informativa e di sensibilizzazione. Le regole sono tre fondamentali, non lo tocco, mi allontano e avviso le forze dell'ordine, perché a distanza di 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, un ordine obelico presenta ancora le sue caratteristiche esplosive, ma con l'innesco assolutamente alterato dal tempo. E questo meccanismo non è in grado di poter garantire lo spostamento di messa in sicurezza e alcuni punti va anche distrutto sul posto. La mattinata è servita anche per illustrare il servizio duale delle unità del Genio, militare ma anche in supporto alle funzioni civili di protezione e sicurezza.